Benvenuti a una nuova intervista dell'Agenzia Italpress, qui in studio con noi c'è l'assessore regionale al territorio ambiente, Giusy Salvarino, che saluto, benvenuta. Buonasera, grazie. Direi partiti una notizia più fresca, stamattina si è riunita la giunta regionale, ha approvato il disegno di legge che recepisce il piano salva casa. Quali sono le novità quindi per la Sicilia? Su cosa interverrà principalmente? La regione siciliana sul tema dell'edilizia ha competenza esclusiva. Quando noi nella scorsa legislatura abbiamo recepito la 380, la norma nazionale, con la legge 16, alcune cose le abbiamo recepite così come erano e quindi lì oggi modificate a Roma vengono modificate automaticamente in maniera dinamica anche in Sicilia e su questo ho fatto una circolare appena insediata proprio per chiarire che queste norme erano direttamente applicabili. Altre norme noi le avevamo recepite sempre nella legge 16 con delle modifiche, facendo delle modifiche che non operava più il recepimento dinamico. È stato necessario oggi recepirle con un disegno di legge ad hoc che manderemo in aula già questa settimana, prima in commissione ovviamente territorio ambiente e poi in aula, chiedendo che venga data una corsia preferenziale perché c'è necessità che anche la Sicilia abbia riconosciuto questa normativa che dà molte agevolazioni in termini di edilizia libera, di modifiche alla doppia conformità. Ci sono una serie di aiuti che liberano anche delle incrostazioni che adesso hanno degli immobili che non possono entrare in commercio se non vengono, non possono essere vendute, se non vengono modificate queste piccole abusi, piccole difformità che con il salvacasa del governo Meloni invece sarebbero recepite. Sono contenta perché peraltro devo dire la verità, nella scorsa legislatura noi avevamo tentato di legiferare su queste piccole difformità e su queste semplificazioni, ma il governo nazionale di allora ce l'aveva impugnato. Per fortuna oggi il governo Meloni invece segue la stessa via un po' più liberale che aiuta i cittadini e peraltro libera risorse anche per i comuni che incasseranno maggiori introiti che potrebbero essere utilizzati per la riqualificazione urbana. Alla luce dell'intesa che c'è all'interno della maggioranza, secondo lei un orizzonte temporale per cui puoi prevedere l'arrivo della legge in aula? Allora io chiederò al Presidente della Commissione, l'On. Carta, di dare una corsia preferenziale perché abbiamo una finestra adesso prima che si apra la sessione di bilancio, altrimenti poi dovremmo attendere l'approvazione delle leggi finanziarie. E proprio per questo chiederò che venga approvato così com'è, cioè evitare di riempirlo di troppi emendamenti che possano appesantirne l'approvazione poi in aula. Se invece lo approviamo così com'è il disegno di legge nazionale, la legge nazionale, la corsia è più agevolata. Quindi entro a fine dell'anno, diciamo? Sì, sì, io spero di sì. Un altro nodo ricorrente che riguarda la Sicilia è quello dei forestai. Recentemente il concorso l'anno scorso si era svolto ma poi è stato annullato. È possibile prevedere anche qui una data, un orizzonte temporale di svolgimento? Sì, stiamo già lavorando alla norma perché ci serve una copertura finanziaria per poter fare altri concorsi. Da qui a due anni noi avremo un voto di organico che è di circa 200 persone. Capirete bene che accantonate le 46 unità che comunque sono oggetto di quel concorso che è stato annullato ma impugnato. Quindi a prescindere da quei 46 posti che sono cristallizzati noi potremo fare un ulteriore concorso che da qui al prossimo anno metta in servizio altri 200 agenti. Questo è un corso concorso per cui noi chiederemo se è possibile di farlo anche in maniera autorevole alla Scuola dei Carabinieri, il corso. Metteremo in campo quindi forza nuova, nuovi giovani perché il limite di età essendo un corpo di pulizia sono sotto i 30 anni. Quindi tanti giovani appassionati che servono al corpo forestale che come sapete ha non solo una funzione di tutela del territorio e di lotta all'antincendio. Ma il corpo forestale è stato per esempio essenziale nel periodo nostro del covid. È stato un grande supporto all'azione di controllo del territorio, di supporto alle varie attività che man mano si aprivano. Quindi noi vogliamo che questo corpo forestale non arrivi a chiudersi. Quindi serve necessariamente fare questo concorso. Il presidente Schifani è assolutamente convinto di questo e quindi repereremo queste risorse in finanziaria per operare già dal prossimo anno il nuovo concorso. Cambiando argomento parlando del CTS, della commissione tecnospecialistica che vauta appunto le autorizzazioni. C'è stato un primo bilancio, un primo anno in attività, sono oltre mille quelle analizzate quelle vagliate. Ci può dare un bilancio anche lei? Sì, abbiamo una commissione tecnico-scientifica con il professor Armao ha trovato una grande accelerazione. Noi stiamo seguendo con grande attenzione tutti i temi che passano dalla CTS. Io sono l'autorità ambientale. Ho chiesto anche una particolare attenzione ad evitare l'effetto cumulo perché io non voglio che in certi territori ci sia una concentrazione di impianti di energia alternativa che stravolgano quei territori. Dopodiché noi dobbiamo certamente aiutare però le attività produttive e tutte quelle aziende che vogliono investire in Sicilia, ma dobbiamo farlo nel rispetto anche delle nostre bellezze e dell'ambiente. La regione sta lavorando anche sul fronte della lotta al cambiamento climatico. Ci sono due progetti in ballo? Sì, noi siamo regione capofila in due progetti importanti. Siamo capofila nel progetto Missione Oceano che ha tutela dei nostri mari e addirittura lì abbiamo vinto come regione non solo in Italia ma addirittura in Europa. Ci sarà il 25 ottobre un appuntamento importante, verranno la Commissione Europea a Lampedusa perché Lampedusa diventa riferimento al progetto Faro. Ma stiamo anche lavorando proprio in questi giorni a un progetto importante sui cambiamenti climatici. La regione siciliana sta cercando di lavorare a una strategia per intercettare risorse europee, per combattere i cambiamenti climatici ma soprattutto alcuni effetti che noi abbiamo e che altre regioni non hanno. Com'è il rischio desertificazione? La ricerca ci può venire incontro con una serie di progetti e possibilità per bloccare questa desertificazione. Le faccio un esempio. Si è scoperto che dalle alghe, dal recupero delle alghe, con un processo semplicissimo, si producono un pietrisco che si è messo nelle terre che sono già aride e quindi già proprio come se fossero un deserto e noi ne abbiamo tante, soprattutto nella piana di Gela e di Licata, viene riossigenato quel terreno. Quindi annulliamo quell'effetto di desertificazione che invece in questi anni si è molto accelerato, con alcune pratiche anche erronee che i nostri agricoltori in buona fede fanno, utilizzando spesso acqua e salmastre, quindi salate, nei nostri terreni. Questo è un processo che è agevola, che è accelerato la desertificazione. Insomma dobbiamo cercare di lavorare intercettando più risorse possibili che vengono dall'Unione Europea, che sono extra-regionali, e mettendoci noi le competenze che certamente in Sicilia abbiamo, professionisti e accademiche. Perfetto. Ringraziamo l'Assessore Giuseppe Primo per la disponibilità. Grazie a voi. Diamo un nuovo appuntamento con l'intervista dell'Agenzia Italpress.